Il 9 gennaio al cinema Edoardo Di Filippo di Agropoli una nuova proiezione del film che sta emozionando gli spettatori. Dopo i due sold out precedenti a Vallo della Lucania e Domignano, il film Il Maestro più Margherita ritornerà sul grande schermo per stupire ed emozionare ancora una volta gli spettatori. E come scrive lo sceneggiatore Giovanni Laurito, questo film è la messa in scena di una messa in scena. I personaggi sono burattini, figure stereotipate, c'è il buono che è proprio buono, ci sono la bella, le bestie, le canzoni, le poesie, i buoni sentimenti e i bambini. Eppure quei burattini sono a loro volta burattinai perché sono essi stessi a muovere le fila del racconto, dall'interno come fa il vecchio cantastorie che narra di loro e in fondo di sé, aprendo e chiudendo la pellicola. E come fa il bambino diventando adulto e scrittore che proprio attraverso l'interposizione del cantastorie ci porta nel suo mondo piccolo degli anni 50, reso favolistico da lungo tempo trascorso e dal filtro benevolo del ricordo. Il maestro più Margherita è un esercizio metatestuale, un intrico di scatole cinesi, di semplice latta, però laccata della lucida nostalgia per un'Italia che non c'è più o meglio che non c'è mai stata, ma vorremmo tanto ci fosse stata, per avere tutti dei ricordi così, il che in fondo è da sempre il miracolo del cinema e il fine di ogni lettura. Il maestro più Margherita vi aspetta al Cineteatro Edoardo De Filippo ad Agropoli il 9 gennaio alle ore 19.